Il vice sindaco è con noi, è sempre con noi, anche ieri era in giunta, quindi è mancato in sei anni, sei anni e mezzo a un consiglio comunale. Non si è fatta attendere la risposta del sindaco di Tezze sul Brenta, Valerio Lago, agli attacchi dell'opposizione in consiglio comunale. Opposizione che attraverso i nostri microfoni ha denunciato l'assenza nell'ultimo periodo del vice sindaco Luigi Pellanda dall'attività politica e amministrativa. Un danno per il paese, ha detto la consigliera Maria Rita Innocentin, è il sintomo della frattura in atto nella maggioranza. Lago smentisce tutto e contrattacca così all'affondo della sua sfidante alle ultime elezioni. Non gli è ancora passata che ha perso le elezioni, tanto da indichiarazione di voto dire che i cittadini di Tezze hanno premiato la mediocrità. Mi sembra che il comune di Tezze è tutto forché mediocre, visto che le opere pubbliche vanno avanti nonostante nessun mutuo, voglio precisare quindi con fondi nostri. Il sindaco cita tra l'altro lo stanziamento operato dall'ultima giunta a favore di telecamere che garantiscano la sicurezza in paese. Eppure proprio sul fronte lavori pubblici si esprimono le perplessità di un'opposizione che lamenta l'immobilismo della maggioranza. E cita ad esempio il caso della rotonda di Stroppari, un'opera che deve ancora essere messa in gara. Stiamo aspettando il nulla osta della Curia perché dobbiamo abbattere la canonica, quindi abbiamo tempo a mettere in gara fino al 31 di gennaio. Quindi la rotonda, cara signori nocentini, cari cittadini di Tezze, sarà fatta entro i termini.